Andiamo da Francesca perché è già pronto con lei Simone Calori che ora ha anche la fascia di capitano, terzo capitano di giornata Sì, in questo momento la fascia di capitano, ascoltiamo a caldo anche Simone Calori che cosa è successo oggi? Non lo so, non lo so, è successo quello che è successo durante il campionato non c'è poco da dire, è successo già altre volte quando arriviamo nei momenti clou che sembra che si è già chiuso il campionato più che perdere la partita perdiamo la testa perché è andata così e quindi c'è poco da fare, abbiamo recuperato due volte una partita che poteva stare pure il pareggio, c'è poco da dire, non lo so non c'entra la chiedere scusa Cosa vi rimproverate oggi? Rimproverete te stesso ma anche i tuoi compagni? Tutto, tutto noi, noi in campo ci rimproveriamo che si è fatto schifo come al solito in certe partite, però bisogna staccarmi perché non si può buttare via il campionato quindi c'è poco da fare, è inutile che vengo sempre a dire le stesse cose si è perso 4-2, ci sono due espulsi, gente importante quindi purtroppo ci stanno espulsioni, la espulsione di Davide non lo so cosa è successo di Francesco ci poteva anche stare ma non c'è perché comunque vada ha velocizzato il gioco, non è che gli ha tirato un calzotto nel muso però c'è gente che ha dato l'anima però non basta, è proprio perverso la testa, non lo so quindi c'è poco da dire, manca tre giorni c'è un'altra partita Allora domenica ci si ritroverà nella stessa situazione perché il Marino avviene? e lo so, tutte le domeniche è così Grazie Grazie